Buongiorno e ben ritrovati in questa ennesima puntata del salotto Google di C2 Group. Una delle ultime puntate del 2021, anche quest'anno ricco di eventi, di novità soprattutto, ma oggi, proprio per darvi uno degli ultimi regali di Natale per quest'anno, sono lieto di avere qui con me Roberto Rosaschino di Acer. Ciao a tutti, ciao Alessandro e grazie di ospitarmi ancora una volta in questo bellissimo salotto virtuale. Esatto, grazie a te per la tua presenza e oggi parliamo di un argomento molto molto importante, perché questi ultimi due anni hanno visto, al di là della problematica, pandemia, eccetera, un forte inserimento nelle scuole italiane del Chromebook. E quindi è importante fornire dei chiarimenti, ma soprattutto le giuste informazioni, affinché l'utilizzo di questi dispositivi sia ottimale. Mi confermi. Esatto. Mi ricordo e soprattutto hai citato l'Italia, l'Italia che tra l'altro a livello europeo, io ho la fortuna di ricoprire un ruolo che mi consente anche di vedere tante realtà in Europa, e l'Italia, soprattutto nell'adozione degli strumenti Google, è uno stato di eccellenza all'interno di Google, quindi sono particolarmente lieto di essere qui. Oggi raccontare di una cosa che renderà le scuole ancora più contenti di aver scelto il Chromebook. Esatto. Infatti, allora, ripartiamo, e quindi qui condividerei le slide, perfetto, partiamo da che cosa? Allora, il Chromebook è un argomento vastissimo che abbiamo già trattato, abbiamo trattato anche quello che va sempre a corredo con il Chromebook, ovvero una licenza, una licenza che ha acquisito negli anni tantissimi nomi, ma ufficialmente questa licenza, che noi di C2, qualità di partner, forniamo sempre a corredo dei Chromebook, si chiama Chrome Education Upgrade. Molti magari la conoscono soprattutto come licenza management, questo perché grazie a questa licenza è possibile registrare i dispositivi Chrome, quindi tutti quei dispositivi che hanno sistema operativo Chrome OS, dove appunto i principali sono i Chromebook, quelli più diffusi direi anche a livello globale, che magari, Bob, mi dai conferma anche di questo dato. Assolutamente, assolutamente. Continua e ragguardevole crescita. Ecco. Quindi permette alla scuola, grazie, di avere inserite nella console di amministrazione tutti i dispositivi Chrome, quindi parliamo di Chromebook, e quindi di poterli gestire. Che la scuola ne abbia dieci, cento o mille, si possono gestire tutti con un click, ed è una delle cose molto interessanti. Questa slide, che tra l'altro metteremo a disposizione, questa presentazione, è semplicemente la crescita delle configurazioni Chrome negli anni, quindi molto interessante. Però ecco, la cosa fondamentale è che tutte queste features, ma anche tutta un'altra serie di caratteristiche, sono gestite grazie alla licenza Chrome Education Upgrade dalla console di amministrazione. Ora, una cosa su cui avevamo già dibattuto in passato, e quindi vi invito ad andare a vedere nella nostra pagina, che linkeremo sotto, proprio tutta una serie di video tutorial che vanno ad approfondire l'argomento, vi invito a andare a guardare tutto ciò che riguarda quello che la scuola, e quindi l'amministratore, può fare solo ed esclusivamente grazie alla licenza Chrome Education Upgrade, che di base è una licenza che viene venduta stand-alone, come si dice in gergo tecnico, separata dal Chromebook. Però, come dicevo all'inizio, noi, C2, in qualità di partner di Google for Education, corrediamo sempre, includiamo sempre la licenza Chrome Education Upgrade in ogni Chromebook che forniamo. Sì, Alessandro, tra l'altro permettimi di dire, questa si sposa perfettamente anche con la nostra filosofia, perché alla fine, quando si tratta di consegnare un dispositivo alle scuole, la cosa più importante è l'esperienza finale, che gli insegnanti, gli studenti, e anche le famiglie indirettamente possano provare, possono avere. Chiaramente, avere il Chromebook con la Google Workspace è già sicuramente un ottimo inizio, ma per completare l'esperienza è importante che ci sia anche la licenza, perché uno dei benefici principali dell'adozione dei Chromebook, che hanno anche portato tantissime scuole in Italia e in Europa a scegliere i Chromebook, è la facilità di gestione dei dispositivi, che come è scritto molto chiaramente in questa slide, può avvenire solo grazie alla licenza Chrome Education Upgrade. E se non sbaglio, anche nella prossima slide, vedremo anche che è un beneficio che si estende non solo all'IT manager, ma a tutto l'ecosistema scuola. Esatto, perché una delle, diciamo, la base della filosofia di Google, ma anche di Acer, è quello di snellire il più possibile procedimenti, semplificarli, considerando che nel contesto italiano la figura dell'IT manager nella scuola pubblica, non esiste, fondamentalmente. Sono insegnanti stessi. Sono insegnanti volenterosi, che a volte sono anche incastrati in questo ruolo, di amministratore di piattaforma, e quindi potrebbero pensare, ma ora anche questi dispositivi devo gestire? Diciamo, ci stanno dicendo grazie, perché rispetto al passato è un notevole cambiamento. E quando si parla di funzionalità e di gestione, chiaramente, qui faccio proprio un esempio generico, si parla di gestione a livello di sicurezza, di controlli sugli aggiornamenti, su impostazioni che sono legate al dispositivo, tipo abilitare o disabilitare anche banalmente la webcam o le porte USB, quindi a livello hardware, ma a tantissime impostazioni anche lato utente. Quindi ciò che può o non può fare lo studente a livello di navigazione o a livello di contenuti a cui puoi accedere, come ad esempio le applicazioni del Play Store, che vengono invece gestite solamente, esclusivamente a livello di scuola. E quindi, fondamentalmente, qui ci sono dei benefici che vanno a interessare tutti gli attori della scuola. Dall'amministratore di piattaforma, che quindi può gestire rapidamente e in maniera veloce tutti i Chromebook, tutto il parco macchine che ha a disposizione la scuola, i docenti e gli studenti che, grazie ai Chromebook e alla licenza, fondamentalmente non hanno bisogno di interessarsi alla parte tecnica, ma possono dedicare il loro tempo soprattutto ad apprendere e ad insegnare, ma soprattutto sono sicuri, così come lo sono anche le famiglie, di lavorare in un ambiente protetto. E anche qui, chiaramente, la scuola ovviamente ne beneficia indirettamente, grazie appunto al beneficio che hanno docenti, studenti e famiglie, e direttamente, perché comunque anche a livello economico, la scuola come struttura ha un risparmio notevole a livello di gestione e manutenzione. Sì, questo hai toccato proprio un tema importante, la bellezza della console, che non importa se io ho dieci, venti, cento, mille macchine, è sufficiente una sola persona, che crea i profili una volta sola e poi può semplicemente dire questo è un account per un insegnante, avrà un tot di profili, questo è un profilo per un insegnante della scuola primaria o secondaria e ne avrà di differenti. Tutto questo gestito da una semplice console e con un click e soprattutto da remoto, quindi non c'è necessità di viaggiare o altro, e si può fare tutto comodamente dalla propria postazione di lavoro. Esatto, e proprio sulla questione risparmio di tempo e semplificazione di alcuni processi, siamo qui oggi a parlare di una importante novità che è questa qua, Zero Touch Enrollment. Eccoci, eccoci. Allora, siamo molto contenti oggi di parlare di questa iniziativa, sia perché come Acer siamo stati anche i primi partner ufficiali come provisioning di questa funzionalità, siamo anche stati i primi in Europa a completare il primo caso di Zero Touch Enrollment. È una tecnologia di Google che noi abbiamo sposato, come dicevo, fin dal primo giorno. Perché l'abbiamo sposata? Perché ci siamo resi conto di quello che avviene oggi. Di norma, la registrazione dei Chromebook richiede intervento manuale. Quindi io, come IT manager o insegnante particolarmente schillato, ho necessità di avere fisicamente davanti il Chromebook. E su questo poi Alessandro darà ulteriori dettagli. Però richiede un intervento manuale. Il problema è che in alcuni casi, soprattutto con quello che è successo negli ultimi 18 mesi, il lavoro da remoto è aumentato. Ci sono difficoltà magari anche a raggiungere plessi in località differente. E soprattutto c'è la necessità di consegnare un dispositivo facendo in modo che l'insegnante o lo studente sia subito pronto a poterlo utilizzare. Quindi ovviamente era importante che ci fosse una tecnologia che consentisse una configurazione automatica della macchina. E qui veniamo proprio allo zero touch. Grazie a questa funzionalità, l'IT può acquistare dei prodotti, ovviamente Acer, con il sistema operativo Chrome e fornendo poche ma essenziali informazioni al nostro caro amico Alessandro, sarà possibile, nel momento in cui il docente o lo studente inserisce la propria email di istituto, trovarsi la macchina completamente configurata, facendo in modo che l'IT manager non deve fisicamente recarsi sul posto o che debba avere fisicamente davanti a sé il proprio dispositivo. Questo ovviamente è un enorme vantaggio, soprattutto in uno stato come l'Italia, dove, come diceva giustamente Alessandro, il ruolo dell'IT è svolto da un docente. Quindi qualunque tecnologia che possa rendere la vita più veloce e più semplice al docente è ovviamente oro, soprattutto poi se questo oro non si paga, perché Google, Acer e C2 offrono questo servizio in maniera totalmente gratuita. Quindi è veramente una grandissima soluzione, una grandissima tecnologia, siamo contentissimi, ma adesso andiamo a vedere, e qui ricedo la parola ad Alessandro, all'atto pratico, come si svolge, cosa funziona e cosa deve fare la scuola per poterla abilitare. Esatto, ecco, come giustamente hai accennato tu, ad oggi la maggior parte degli amministratori deve avere dispositivo davanti, inserire le proprie credenziali e poi fornire lo strumento allo studente. Oggi tutto questo scompare. Però ci sono appunto dei passaggi fondamentali. Il primo, quando la scuola decide di acquistare dei dispositivi Chromebook, Chrome OS in generale, è importante che ci richieda dei dispositivi che siano compatibili con questa tecnologia, quindi con lo ZTE, quindi Zero Touch Enrollment. E ovviamente deve richiedere a C2 di attivare questa possibilità su quei dispositivi. chiaramente questo viene fatto nel momento dell'acquisto e senza particolari problemi. Tra l'altro, Alessandro, permettimi di dire che sostanzialmente noi come Hacer abbiamo deciso di abilitare lo ZTE quantomeno su tutti i prodotti nuovi, diciamo sostanzialmente su quasi tutto ciò che è stato spedito quest'anno, prodotto e spedito quest'anno. Tra l'altro a partire da tutto ciò che abbiamo prodotto da aprile in poi, abbiamo anche posto un'etichetta proprio sulla scatola con scritto ZTE Ready, quindi per alcune scuole è facile, quindi se vedono l'etichetta loro hanno già la certezza che quella macchina è compatibile. Se non ce l'hanno, occorre ovviamente fare una verifica con C2 e quindi con Alessandro per verificare che la macchina sia effettivamente compatibile con questa nuova tecnologia. esatto, quindi quando ci siamo messi d'accordo sul fatto che dobbiamo attivare lo ZTE, quello che comporta a livello di scuola è semplicemente il generare quello che si chiama pre-provisioning token, cioè un codice, ovviamente sarete seguiti anche con le istruzioni su come generare questo codice della console di amministrazione, e una volta che questo codice viene fornito a noi di C2, la scuola non si deve più preoccupare di nulla, perché saremo noi insieme ad Acer e Google a fare tutto il resto, quindi con tutta una serie di passaggi che tra l'altro l'amministratore può monitorare direttamente dalla console di amministrazione, ma tutto questo viene fatto in tempi brevi, quindi giusto il tempo della spedizione da C2 alle scuole. Esatto. Per cui quando semplicemente arrivano i dispositivi, che poi qui si possono valutare diversi scenari, che siano dispositivi che arrivano a scuola, che comunque magari c'è lì l'amministratore che non so, ha 30 dispositivi nuovi, comunque magari li deve accendere, dovrebbe come nel vecchio metodo accenderli uno per uno e inserire, assegnare manualmente la licenza, in questo caso non più, oppure l'altro scenario in cui i dispositivi arrivano direttamente magari agli studenti, quindi la scuola fornisce semplicemente la scatola con dentro il dispositivo agli studenti, e a quel punto non rimane altro all'utente che ha davanti a sé il proprio Chromebook di accenderlo, connetterlo al Wi-Fi. Quello che succede dopo è una conferma di identità e idoneità del dispositivo da parte di Google, ma chiaramente è un qualcosa di non visibile lato utente, sono quei procedimenti in background tecnici, e dopo che si ha la schermata per cui si conferma il fatto che il dispositivo sia idoneo e quindi sia registrato, l'utente dovrà semplicemente effettuare il login con il proprio account, come appunto, come tira fuori dalla scatola, accende, internet, account, lavoro. Tempo di tutto questo? Due minuti? Anche meno, anche meno di due minuti, abbiamo visto dei casi 60 secondi, 80 secondi, ed era tutto pronto, quindi immaginate il risparmio in termini di tempo. Prima invece, oltre alla, non dico scocciatura, però oltre alla necessità della persona, l'amministratore, dover fisicamente configurare una macchina dopo l'altra, in questo caso non deve fare assolutamente niente, deve solo assicurarsi, appunto, deve generare un token che è univoco per ogni dominio, quindi non è che è un token diverso per ogni macchina, è un codice solo, fornire il dominio della scuola, l'identificatore delle macchine, ma quelle sono informazioni che possiamo raccogliere noi direttamente tramite C2, e ovviamente la verifica che fa Google in maniera invisibile è assicurarsi che ci siano un numero di licenze sufficienti per poter proseguire con l'attivazione. Quindi, è fondamentale anche sottolineare questa cosa, io lo Zero Touch Enrollment lo posso utilizzare se e solo se ho una licenza Chrome Education Upgrade. Quindi, è un ulteriore stimolo a utilizzare e a acquistare la licenza. Esatto, esatto, questo è proprio un esempio delle schermate, la schermata di benvenute del Chromebook, la schermata in cui ci si collega a internet, chiaramente l'accettazione dei termini di servizi, poi quello che vi dicevo prima, invisibile all'utente, quindi tutti i check a livello di sistema, giusto il tempo appunto di fare questo check e dopo in automatico verrà definito quello che è Enterprise Enrollment Complete, ovvero il fatto che il device sia gestito, a quel punto diventa completamente gestito a livello aziendale, ma semplicemente perché viene dall'ambito aziendale, ma in questo caso dalla scuola e quindi poi appare la classica schermata di accesso con il proprio account e quindi siamo pronti a lavorare. Poi dall'account mi inserisco la mia bella mail e va a prendermi tutte le configurazioni che sono state già decise a priori attraverso l'admin console. Quindi il passaggio vero, diciamo, nell'atto operativo quello che mi consente lo ZTE è anziché avere davanti il Chromebook inserisco la mia mail dtadmin e poi posso finalmente inserire la mail dell'utente finale e non devo fare nulla, semplicemente mando il Chromebook ancora impacchettato all'insegnante e allo studente e fa poi tutto lui. Quindi è veramente un grandissimo aiuto. Anche per scuole che magari hanno soltanto una classe di Chromebook, cioè la cosa bella è che è una funzionalità così come l'admin console che è apprezzabile anche da scuole che al momento hanno ancora un numero limitato di dispositivi. non è un freno ecco quello che il punto che volevo sottolineare. Anzi. Assolutamente, assolutamente. Bene, che dire, abbiamo, diciamo che ci è voluto più a spiegarlo che a farlo. Avremmo probabilmente configurato almeno un 2000 Chromebook nell'arco di questi 20 minuti probabilmente, Ale. Esatto. A questo punto ritornerei, toglierei le slide così ritorniamo alle nostre belle facce. Esatto, il mio bel faccione con dietro il nostro Innovation Center e quindi che dire, grazie mille Bob per questa chiacchierata. Grazie a te per l'invito e per l'opportunità. Sono molto contento e che dire, ci facciamo gli auguri di Natale. Facciamoci, esatto, auguri di buone vacanze e ci risentiamo alla prossima nuova funzionalità da presentare alle nostre scuole. Esatto. Bene, grazie mille Bob, grazie mille a tutti, buon Natale, a presto. Ciao a tutti e buone feste. Ciao ciao. Ciao. Grazie mille a tutti. Grazie mille a tutti. Grazie mille a tutti.